Buonasera signore e signori, l'Unione Sportiva Torri vi dà il benvenuto alla terza giornata del campionato regionale di Serie D tra il tema studio e l'Universal Sirio. Coach Gemmo si affida allo stesso sestetto iniziale della settimana scorsa con Leonardo e Borriero sulla diagonale palleggio opposto, Tovo, Zaramella, Piloni centrali, Zanguio e Formilan attaccanti laterali e Rigoni libero. Nel primo set Torri è composto nel gioco e sono gli avversari a sbagliare tanti in attacco e in ricezione e si arriva al primo time out sul puntedio di 11-5. Nel finale set le nostre ragazze sono perfette a muro in attacco e si aggiudicano facilmente la frazione. Nel secondo parziale non si fa tendere la razione dell'Universal che incomincia a impassilirci soprattutto con il loro gioco in fasto. Torri gioca bene al centro ma sbaglia troppo in battuta e si taglia da punto a punto fino al 13-5. Nel tema studio dopo il time out riordina le idee, effettua il break decisivo grazie a un ottimo lavoro muro difesa e con Leonardo che distribuisce bene il gioco e si aggiudica anche il secondo set. Nella terza frazione entra Abbonato e le Biancoverti partono subito fortissimo martellando già dal servizio. Il recupero dell'avversario è imminente a causa della poca lucidità in attacco ma è ancora una volta Zarramella a riportare avanti il torri. Nel finale del set le Biancoverdi perdono di lucidità in attacco e cedono la fazione all'avversario. Il quarto set la fotocopia di quello precedente, le torrine partono male e vanno sotto 5-1. Ma riusciamo a recuperare fino al 9 pari e proseguiamo a braccetto con l'avversario fino al 17 pari a causa dei troppi errori nella passe-break. Il tema studio effetto è un buon break portandosi sul 20-17 ma subisce subito la rimonta dell'universal a causa della troppa premura nel vestito in punto e cediamo anche la quarta frazione. Comincia il time break e si capisce subito che le Biancoverdi vogliono portare a casa la vittoria. I parziali sono da capogiro e torrine sbagliate a Fulente che arriva all'11-5. Con il campo la paura di vincere le torrine incominciano a sbagliare qualche tempo di troppo. Per un attimo gli avversari ricucciano le distanze fino al 13-10 ma Torriere e Zanguio chiudono i conti portando a casa i primi due punti della stagione. Su festeggiamenti delle ragazze vi diamo appuntamento a sabato prossimo alle ore 21 a Rovigo contro la Bang Rovigo.